ma stai qui per fare un film no no sono imperio che fai questi devono stare qui capito si devono vedere bene questa quilla è strategia questo marketing marketing siamo rimasti in quattro un paese ci vedo il ballatore guardano me veloce ed anche molto poetico poetico le poesie erano le mie io ho sempre voluto tanto bene come se fosse lì i miei bosco era tanto un bell'uomo poverino è triste per la sua zia ma che la zia la zia sta bene promettetemelo che è morta secondo te e così sia la casa che tutti i terreni terreni ma quali terreni fallo finire andranno a voi solo se li coltiverete insieme d'amore e d'accordo io non gli sono stato vicino si è andato via e non ci abbiamo visto per anni buongiorno notaio tutto bene sono venuta a casa quindi te ne vai è certo che me ne vado questi sono i poderi ruspanti sono circa 122 ettari e mezzo pianta più pianta meno e sono tutti nostri solo se deciderete di coltivarli io sono fegalo ruspanti e questa è la mia terra ora